Continuano i controlli effettuati ai plessi scolastici di Nocera Superiore grazie alla collaborazione di professionisti che nelle ultime settimane hanno compiuto sulle diverse scuole verifiche per il successivo rilascio di certificazioni che saranno consegnate ai dirigenti scolastici prima dell'inizio dell'anno a testimonianza della fribilità degli edifici. Diversi gli investimenti per ogni istituto. Sarà prossimamente inaugurata la nuova palestra della Scuola San Giovanni Bosco ed è in corso la realizzazione del primo asilo nido comunale presso i locali della Marco Polo. Abbiamo, lo ricordo, anche effettuato delle manutenzioni interne ai locali scolastici con pitturazione e sistemazioni varie. Abbiamo ulteriori soldi investiti sulle scuole. Basta ricordare l'asilo nido comunale che sarà ospitato all'interno della Scuola Elementare Marco Polo in via Vincenzo Russo e anche qui saluto la dirigente, la dottoressa Motti che le diamo il benvenuto tra noi, sicuri di un'ottima collaborazione che riusciremo ad avere. Abbiamo in corso il progetto esecutivo sulla Scuola Luigi Settembrini, un investimento di un milione e tre che consentirà alla Scuola di essere vissuta in tutti i suoi ambienti, dalla palestra alle aule, le pareti saranno rifatte. Quindi sarà un intervento strutturale. Così come abbiamo in corso di gara, e la sta espletando la sua la gara, il completamento e l'adeguamento del plesso di Porta Romana, lì c'è la gara in corso che ci porterà quindi ad avere la ditta individuata per iniziare i lavori e il coordinatore della sua ci informava pochi giorni fa, avendolo telefonato, che questi lavori inizieranno a breve. Abbiamo un investimento sulla pareti Pucciano di circa 800 mila euro, anche lì riqualifichiamo l'intera scuola. Ovviamente la pazienza ai nostri cittadini di attendere l'esito delle gare affinché siano individuate le imprese e si mettano al lavoro.